In occasione della mostra Enrico Cattaneo, racconti di scarti e alterazioni, abbiamo pensato di organizzare questa serata in cui si parlerà dell'opera di Enrico Cattaneo, che come mi dicevano alcune persone questa sera non conoscevano ma sono rimaste sorprese, favorevolmente sorprese se non stupite, dalla bellezza di queste opere. Allora io ringrazio Giuliano Manselli e Alessia Locatelli per l'archivio fotografico Enrico Cattaneo e ringrazio Giorgio Zanchetti, storico dell'arte, e Gigliola Foschi per storica della fotografia per essere qui questa sera, dopodiché verrà anche Francesco Tedeschi, ma direi che possiamo iniziare. Ringrazio in modo particolare te Gigliola per aver fatto da coordinatrice e teso tutte le diverse reti all'interno di questa mostra. Grazie moltissimo anche a tutti, anche a San Fedele che ci ospita, soprattutto a Giorgio Zanchetti e Francesco Tedeschi. Volevo solo avvertire che purtroppo Enrico Cattaneo, che sarebbe stato molto volentieri presente in questa serata, ha dei problemi di salute, quindi si scusa moltissimo, ma non potrà esserci. Quindi ho pensato che siccome Giuliano Manselli segue l'archivio, fa parte dell'archivio fotografico Enrico Cattaneo, conosce tutto, ha anche fatto l'intervista a Enrico Cattaneo che è qui presente in mostra, quindi ho pensato che nel caso dobbiamo fare delle domande, le facciamo direttamente a lui e vediamo se poi è capace di risponderci, no, e poi gli diamo un cattivo voto, facciamo la spia di Enrico che non è saputo rispondere. Adesso faccio una piccola introduzione a questa mostra che ho avuto grande piacere di curare, perché conosco Enrico da tanti anni e mi faceva molto piacere, perché in realtà io avevo visto spesso mostre di Enrico, una in una galleria, l'altra in un'altra, ma erano sempre mostre, come dire, legate a una serie fotografica. L'idea di questa mostra è quindi costruire una piccola antologica, ma un'antologica tema, perché chiaramente fare un'antologica di Enrico avremmo bisogno di uno spazio gigantesco, perché è un archivio enorme, diciamo che lui è stato il fotografo dell'arte contemporanea dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, quindi ha fotografato serate, inaugurazioni, artisti e opere di artisti che, come ricordava Giorgio, erano soprattutto installazioni e sculture, quindi si rifiutava, perché poi è anche una persona con una sua personalità, diciamo, di fotografare dipinti, ma soprattutto quindi installazioni e sculture, ed è stato uno dei fotografi che ha avuto maggiori rapporti, diciamo, con il mondo, soprattutto del nuvo realismo, celebre, diciamo, Armand, César, Spurri, Yves Klein, che ne ha fatto parte, e peraltro Giorgio Donchetti con Silvia Vignami hanno curato una mostra bellissima al Museo del Novecento, quindi semmai dopo parliamo anche di questi aspetti. Quindi l'idea è stata quella di mettere insieme opere che Enrico ha fatto in anni diversi su questo tema proprio dei rifiuti, degli scarti, nei vari modi in cui Enrico poi li ha declinati. Quindi possono essere lavori sugli scarti come quelli che vediamo messi lì, che sono totem, che possono essere lattine schiacciate, che lui ha recuperato nelle strade di Milano, se li ha portati in studio, e li ha fotografati come delle sculture, delle grandi opere, quindi usando tutti gli studi di luce da lui conosciuti per fotografarle, ma non solo per farle belle, ma per dargli una nuova vita, quindi una nuova vitalità. Ci guardano, diventano dei volti, diventano delle facce, dei personaggi vivi, e quindi questo mi sembrava molto interessante anche in una logica, in un percorso della Galleria San Fedele, che è quella di ridare vitalità, cioè a ciò che è abbandonato, a ciò che è stato rifiutato della società, ritrovare una relazione, avere un gesto di pietas. In questo caso è un gesto di pietas, è anche ironico, è anche giocoso, quindi c'è un lato spiritoso nel suo lavoro. Dall'altra, quell'opera che mi sembrava molto interessante, che è un'opera che Enrico Cattaneo ha fatto ancora negli anni 50, a fine anni 50, in cui, epoca in cui tutti fotografavano, a parte le periferie, eccetera, e Enrico decide di fotografare addirittura i rifiuti, no? Ma la cosa interessante è che quell'opera è stata poi l'opera che, quella che vedete, era l'opera che è stata esposta alla mostra di Lea Vergine, che si chiama Quando i rifiuti diventano arte, che è anche questo libro che era uscito da Schirà, che era una mostra fatta a Palazzo delle Albere nel 1997, a Trento, e quindi è anche un pezzo della storia importante delle esposizioni in Italia. Questo lavoro, peraltro, che è un lavoro celebre di Enrico, che è un lavoro che si intitola Pagine, e che Enrico ha sempre chiamato Cartacce, perché sono fotografie, sono proprio carte fotografiche che lui aveva abbandonato e che a distanza di anni sono state recuperate e trasformate in opere. E qui, in questo caso, le cito molto volentieri, perché in pratica anche il titolo della mostra, che è Storie di scarti e alterazioni, vuole essere anche un omaggio alla mostra che era stata fatta nel 2006-2007 da Roberta Valtorta, dal titolo proprio Alterazioni, in cui proprio queste opere erano entrate. Cioè che era un lavoro proprio di come la carta fotografica, la materia fotografica, si altera e si modifica. Quindi c'è un percorso in cui si crea un legame tra l'opera di Enrico e l'opera, diciamo, e il mondo dell'arte contemporanea, perché in effetti Enrico ha avuto un rapporto molto forte, come dicevamo, sia con l'arte povera, sia con Nuvo Realism, però girata in una chiave fotografica. Ed è questo che mi sembra fondamentale. Cioè, da una parte, come diceva Walter Benjamin, è creare storia con gli stessi rifiuti della storia. E quindi, perché il rifiuto, in fondo, non è solo quello che è stato abbandonato, ma è anche qualcosa che conserva la nostra memoria, che conserva le tracce dei nostri gesti, di ciò che abbiamo fatto. E quello che mi sembrava interessante è il fatto che poi la fotografia, a sua volta, è qualcosa che conserva. Perché in fondo conserva l'immagine, è un'operazione di conservazione, conserva la memoria, conserva le tracce. E quindi mi era parso molto interessante questa operazione di Enrico, che è, come dire, quella di lavorare con la fotografia, che a sua volta è qualcosa che conserva e trasformare la fotografia in una presenza. Questo lavoro, in pratica, è un lavoro proprio sulla materia. Adesso, per ricordare, e questo è un lavoro degli anni 70, proprio in quel periodo, si è sviluppata, diciamo, una linea analitica dell'arte, come l'ha chiamata Filiberto Menna. Basti pensare alle verifiche di Ugo Mulas, ma il lavoro di Ugo Mulas era sul gesto fotografico, sulla visione. Un percorso in cui poi la fotografia, cioè si partiva, mettiamo, dalla carta, dalla prima immagine, e poi ci si avvicinava fino a che la carta mostrava i suoi, non diciamo più pixel, no, come si chiamano, beh, comunque, la grana, bravo, grazie. La grana, e quindi si andava verso... Antonio, Antonio. Antonio, sì. Quindi si andava verso il mostrare che era visione, che era carta. Nel lavoro di Enrico, invece, c'è un'operazione materica, no, in cui praticamente, invece, del gesto fotografico, dell'operazione fotografica, del vedere, c'è un'operazione sulla materia della fotografia, perché ci si dimentica che la fotografia non è fatta solo del vedere, no, del gesto fotografico, non è solo guardare, o vedere, o lavoro sulla percezione, ma anche la fotografia si è sempre confrontata con i suoi materiali. Cioè, un conto è stampare in una carta, è un conto è stampare in un'altra, è un conto usare, no, un ingranditore, è un conto usarne un altro, no, quindi tutto dipende da questa strumentazione. Quindi lui lavora di più su questo aspetto, no, che è quello del valorizzare proprio la matericità, che si rovescia e diventa personaggio e se stessa, diventa oggetto, diventa cosa che ci guarda. E questo mi sembra molto interessante, per cui volevo anche chiedere a Giorgio, che molto si è occupato, diciamo, invece proprio del lato arte, proprio questa relazione del mondo dell'arte con il rifiuto, con lo jet trouvet, diciamo, e quindi come si può inserire il lavoro di Enrico dentro questa grande storia dell'arte che ha lavorato molto sul tema del recupero. Grazie, grazie anche dell'invito questa sera che mi ha fatto molto piacere. Non so mai, ecco, perché mi sembra di trovarmi davanti a un pubblico che conosce probabilmente già il lavoro di Enrico, anche se devo dire che una mostra di queste cose così ampia, così completa, così ordinata, io stesso che lo conosco ormai da diversi anni non l'avevo potuta vedere perché quando noi pensiamo inizialmente al lavoro di Enrico Cattaneo, noi storici dell'arte, probabilmente un limite allora mio professionale, pensiamo principalmente al fotografo dell'arte, al fotografo del mondo dell'arte che come questi personaggi romanzeschi, che io dico sempre che i grandi fotografi del mondo dell'arte milanese sono alcuni testualmente, cioè Mulas e Donderos, sono dei personaggi della vita agra di Vianciardi, tra l'altro, ma anche gli altri potrebbero potrebbero esserlo, sono dei personaggi da romanzo e in questo modo Enrico, secondo me, si è mosso in molti decenni della vita artistica milanese in un modo assolutamente indipendente, forse anarchico, spregiudicato, ma che proprio per questo è un modo, secondo me, d'autore, cioè lui è autore anche quando fa le più famose forse fotografie di documentazione del mondo dell'arte nei suoi vari aspetti. Lui incontra, quindi, forse la fotografia stessa, insomma, lui ricorda spesso di aver cominciato come molte altre persone della sua generazione a fare il fotografo dovendo inventarsi in qualche modo una professione, non per un progetto costruito a tavolino, non c'erano, come oggi, le scuole di fotografia, l'alunnato negli studi, l'Izzos e quant'altro, frequentando i circoli artistici che per sua fortuna, in quel momento magico della sua generazione erano i bar di Via Brera erano i circoli artistici tra i più avanzati d'Europa, ecco, il Jamaica per dirne uno dei più noti, ma incontra in quelle situazioni alcuni fotografi importanti della generazione precedente e anche della sua e soprattutto tantissimi artisti che diventano, che sono poi Ibai, Sergio D'Angelo, Lucio Fontana, insomma, gli artisti milanesi della stagione degli anni 50 e poi degli anni 60 che diventano il suo tramite per entrare nelle gallerie che poi, siccome lui è un po' più giovane, insomma, molto più giovane di Fontana e un po' più giovane anche degli altri, sono anche poi le gallerie degli anni 70 e degli anni 80 Toselli, Bellora, ecco, non solo Arturo Schwarz o la Pollinerre dove esponeva Klen negli anni 50 e lì vede forse in quel momento si vedeva addirittura più a Milano che a Parigi il nuovo realismo ad esempio, cioè, Boltanski, giovanissimo, fa alcune delle sue prime cose qui a Milano e viene ritratto proprio nei suoi primi passaggi a Milano con Bellora, Luciano Ingapin da Cattaneo che documenta queste presenze, questi passaggi, Cristò, lo stesso Restani, tutti gli altri sono giovani artisti alle prime prove quando lui li incrocia, però, questo signore, Enrico, e lo vediamo in quell'immagine lì, aveva in realtà già cominciato una ricerca sua, cioè, non è che si inventa a un certo punto autore fotografico perché vede gli altri e entra in emulazione, no? Questo è sempre il punto di domanda che si mette sulle verifiche di Mulas, non è vero neanche in quel caso, cioè Mulas non comincia a fare l'artista concettuale dopo vitalità del negativo che lui documenta come fotografo la grande mostra di Roma sul concettuale. Mulas ha una ragione analitica all'interno della sua fotografia che negli anni 50, negli anni 60 ha delle forme e negli anni 70 ha le forme più attuali di quel momento che sono quelle del linguaggio concettuale. Lo stesso avviene probabilmente con Enrico che come accennava anche Gigliola poco fa si sceglie anche se fa un lavoro professionale perché anche lui deve vivere di fotografia si sceglie un particolare genere di soggetti fotografici da fotografare. Cioè lui non fa volentieri non so se l'abbia poi fatto qualche volta però sicuramente non fa volentieri la parte più redditizia del mestiere di fotografo d'arte cioè il cosiddetto fotografo di riproduzione cioè quello che si mette in studio col cavalletto e il fondalino e in una giornata scatta 100 magari fotografie di quadri con la luce giusta perfetta cioè se voleva lo sapeva fare perché ha lavorato in still life ha lavorato in tante altre situazioni. Lui prendeva la macchina fotografica e andava da Toselli quando da Toselli avvenivano le cose più strane più impensate quelle situazioni tra performance installazione che negli anni 70 hanno avuto poi uno sviluppo verticale e cercava di essere il fotografo cioè lui documenta è uscito qualche anno fa quel libro straordinario sulla documentazione dell'attività di De Dominicis ad esempio nelle sue prime mostre e mi sembra che l'80% delle fotografie fossero di Enrico ecco lui documenta quelle situazioni che è più difficile documentare parte anche dalla scultura o da una pittura come quella di Fontana che per primo lui stesso diceva che il taglio e il buco non sono pittura cosa sono non li faccio col pennello li faccio con un attrezzo da scultore e poi si muove a documentare ad esempio anche in situazioni come quelle dello studio Belloro del mercato del sale di Carrega che erano delle gallerie poi votate diciamo le cosiddette ricerche verbovisuali le situazioni più di tipo installativo performativo documenta le prime operazioni di Maurizio Staccioli a Milano quando per inaugurare lo spazio del mercato del sale di Carrega in via Orti Staccioli invece di fare una scultura scava una trincea che divide in due il pavimento della galleria per cui i visitatori dovevano saltare da una parte all'altra di questa trincea nello spazio vuoto della mostra e le fotografie di quella situazione una mi sembra di averla vista recentemente devo controllare se sia proprio quella di Enrico è diventata forse addirittura una copertina di flash art quell'anno però molte fotografie di quell'operazione sono scattate da Enrico la mia impressione quindi è che lui si vada a cercare così come fa in queste operazioni per venire adesso a queste operazioni una cifra creativa cioè una cifra di operatività sua a lui interessa interloquire con gli artisti ma da pari a pari quasi senza vezzi come dire intellettualizzanti o vanità ecco credo che sia l'uomo o meno vanesio del mondo ecco per chi l'ha conosciuto di persona ma con un rapporto di relazione forte un rapporto anche di confidenza di relazione gli interessa andare negli studi degli artisti quando gli artisti preparano le loro opere quando gli artisti ecco per un artista installativo il lavoro progettuale è pure un lavoro molto importante o il lavoro nello spazio espositivo prima che si tagli simbolicamente il nastro dell'operazione dell'inaugurazione forse ancora più importante e forse anche in quell'attività lui cerca nella realtà che è il suo mondo il mondo degli artisti milanesi delle particolarità ecco da quello che io capisco di questo lavoro da come Enrico un po' lo racconta in questo video da come ecco ho avuto il privilegio di sentirmelo raccontare da lui queste sue sperimentazioni che lui ha sempre mostrato un po' con il contagocce insomma non ha mai non si è mai fatto promotore diciamo in prima persona di una mostra di questa parte del suo lavoro però se si va nel suo archivio nel suo studio lui non tiene appesa alle pareti le fotografie di Fontana eccetera ma tiene esposti questi lavori e i lavori degli artisti i suoi amici che hanno lavorato insieme a lui lui quando spiega queste cose spiega di aver cercato all'interno della fotografia in questi casi ad esempio proprio all'interno del materiale fisico della fotografia una sua forma espressiva specifica che vada oltre sicuramente le convenzioni Gigliola evocava giustamente questa idea di alterazione del supporto fotografico del mezzo fotografico così come per venire forse sono stato lungo ma forse un po' quello che mi chiedevi così come evidentemente l'artista del nuovo realismo ogni volta che interagisce con un oggetto trovato un ready made un oggetto trouvé al contrario di quello che accade nella intellettualizzazione nella declinazione tutta cerebrale di Duchamp l'artista del nuovo realismo altera l'oggetto quotidiano il suo intervento è proprio quello di cambiargli scala di accumularlo di rarefarlo in modo estremo sicuramente Enrico è per la fotografia su questa linea cioè si interroga sui punti problematici del materiale fotografico dicevamo prima con Giuliano le carte fotografiche vecchie trovate in fondo un cassetto appiccicate le une sulle altre dove il gesto che fa inorridire i conservatori ma che è il gesto quotidiano magari di chi questi materiali li ha a casa proprio nel suo cassetto di strappare via i due fogli che si erano crea delle immagini che sembrano delle macchie di Rorschach delle figure surrealiste dei frottage eccetera però e ce lo fa vedere molto bene in altre immagini di questa stessa serie forse tutta la fotografia è alterazione perché la fotografia è una cosa bellissima un materiale perfetto la carta prima di essere impressionata il negativo prima di essere impressionata è un materiale tecnologicamente straordinario nella sua semplicità è un materiale avanzatissimo e nel momento in cui io lo espongo alla luce nel momento in cui io ne faccio un'immagine lo faccio perché gli faccio subire un'alterazione un'alterazione tra l'altro che è irreversibile quindi la capacità del fotografo è poi quella di controllare cioè è un'alterazione controllata la fotografia forse è sempre un ready made è sempre un objet trouvé modificato rettificato dall'autore perché anche la fotografia più astratta anche la fotografia nella quale non c'è la riproduzione con la camera oscura di un oggetto visivo esterno tranne quella serie che è stata messa apposta in quelle del 58 in queste fotografie non c'è quasi mai una fotografia con camera oscura di tipo tradizionale però anche nel caso della shadowgrafia del fotogramma di Man Ray o addirittura dei fotogrammi astratti di Veronesi e di Munari la fotografia necessita di un oggetto per esistere sia questo oggetto anche un semplice ritaglio piattissimo di carta che il fotografo astratto appoggia sulla carta sensibile poi la sviluppa e ottiene delle immagini fantasmagoriche in realtà anche in queste immagini se vogliamo chiamarle così o in queste sculture perché forse queste pagine strappate alle nostre spalle sono più sculture fotografiche che non immagini fotografiche c'è una presenza forte di un oggetto che è la carta fotografica stessa cioè senza la capacità di questa carta fotografica che è un materiale fisico i fotografi lo sanno bene che va trattato con cura che risente del clima dell'umidità e di quant'altro queste immagini non esisterebbero cioè non sono dei ritagli fatti con le forbici e poi incollati con perizia con una certa forma sono bianchi e scuri dovuti all'inerimento naturale diciamo del materiale fotografico stesso lo si capisce benissimo però magari poi questo ce lo teniamo per un secondo giro secondo me quando si guarda quell'oggetto fotografico lì cioè quella specie di Veronica che è stata messa come prima immagine di questa mostra che è una specie di opera manifesto di quello che io ho cercato di spiegare secondo me sulla quale poi magari facciamo un secondo giro perché non voglio essere troppo lungo tanto grazie tantissime sottolineiamo appunto la presenza di questa fotografia che si chiama appunto Senza Titolo del 2000 e sono molto orgogliosa e felice di essere riuscita a esporla perché Enrico ne ha fatte semplicemente solo tre di cui una persa da quel che ho capito questa sopravvissuta è una che è a New York perché era una tecnica molto complessa in cui si parte in realtà proprio della fotografia che dicevamo proprio tipo il velo della Veronica il velo della Veronica sappiamo tutto della famosa Veronica questa narra la leggenda che vedendo il Cristo a tradizione ecco facciamoci correggere invece di come dire cosa fa con un telo diciamo lo applica sul volto di Cristo per detergergli il sudore eccetera e questo e il volto di Cristo si imprime su questo telo e quindi ci sono poi moltissimi artisti che hanno lavorato su questo tema che è come dire che ha la base della fotografia la fotografia come traccia come impronta tant'è che poi la cosa curiosa che ho scoperto poi che Santa Veronica è la patrona dei fotografi quindi una cosa molto curiosa no? dei lattaio delle ricamatrici ma anche dei fotografi chiaramente si ritiene una protofotografia esattamente e quindi c'è questo tema esatto quindi praticamente e qui c'è questo doppio gioco della fotografia come impronta e contemporaneamente come illusione perché c'è un gioco visivo in cui come dire verità e finzione no? illusione visiva e realtà si confondono noi diventa un dispositivo che esiste solo un po' con queste luci perché poi Enrico è stato ben attento che noi gli avessimo messo le luci giuste perché bisogna creare l'ombra giusta che riprende esattamente quella della fotografia e quindi è un dispositivo che gioca in bilico tra vero e falso ma quello che è interessante è che non è tanto il gioco tra il vero e il falso ma proprio creare una situazione no? un dispositivo ambiguo che ci cattura che ti interroga che ti mette in discussione ecco un'altra cosa che volevo sottolineare è che spesso la fotografia è stata sempre coinvolta da questo quesito da queste riflessioni che erano la fotografia è una traccia del reale o è un'interpretazione come se fossero due cose opposte no? per cui un'interpretazione espressiva è un'interpretazione traduzione della realtà però è anche un'autentica bugia che può dire la verità o essere in parte falsa o essere del tutto falsa però spesso ci si è dibattuti dentro questi interrogativi questo caso che mi sembra la cosa interessante del lavoro di Enrico è come se avesse un po' scompaginato la logica e avesse detto no la fotografia può diventare realtà essa stessa cioè la fotografia diventa oggetto diventa opera che contiene la realtà perché in questo caso è stata annerita da un aver visto diciamo essersi impressionata ma contemporaneamente diventare a sua volta oggetto espressivo no? e quindi un salto in questa logica e in più un oggetto che non solo conserva un po' ma anche perdere e dentro il tempo no? perché come l'opera in regress è una fotografia che piano piano no? perde visione cioè perde no? in qualità visiva si sgretola e quindi quello che viene sempre detto la fotografia fissa il tempo no la fotografia è dentro il tempo raccoglie la memoria e lo mette in questa logica ecco questo mi sembrava molto interessante anche perché ed è qui appunto la domanda che volevo fare a Francesco Tedeschi che ce l'ha fatta da arrivare e lo ringraziamo molto perché arriva da Roma questo aspetto fondamentale che Enrico con grande modestia ma anche così insomma su questo suo lavoro delle cartacce delle pagine ha sempre detto ah ma no in realtà io sono arrivato in ritardo ho ripreso il mondo del nuovo realismo ma l'ho fatto dieci anni dopo invece che farlo negli anni 60 l'ho fatto negli anni 70 ero fuori tempo massimo e quindi fuori tempo e quindi con questa logica eccessivamente modesta su cui io non sono d'accordo con lui diciamocelo francamente perché non credo che la storia dell'arte sia una corsa ostacoli verso la novità ma no ecco però mi sembrava interessante visto che abbiamo qui Francesco Tedeschi chiedegli ma questa sua relazione col realismo secondo te ha portato qualcosa di nuovo in che modo si relaziona a questo mondo ha solo copiato come dice lui è arrivato in ritardo oppure no e che no che cosa ha ripreso del mondo e in che cosa secondo te ha portato un cambiamento allora grazie mi scuso se è arrivato in ritardo soprattutto perché ho perso e ho sentito solo la fine anche dell'intervento di Giorgio quindi non vorrei dire sicuramente diremo cose che sono vicine anche se da punti di vista lievementi diversi assolutamente anzi tu hai detto la frase che stavi dicendo mi portava a completarla in altro modo poco fa che ci domandiamo se la fotografia è immagine del reale oggi potremmo dire che è forse reale immagine delle fotografie cioè la realtà che viviamo diventa immagine delle fotografie dalle quali siamo avvolti in questo senso invece sulla domanda e sulle considerazioni che già ho sentito di Giorgio credo che il punto non sia solo il problema della relazione con il nuveralismo senz'altro è un aspetto ma è un aspetto che va messo insieme ad altre cose che fanno parte della formazione e del mondo che ha frequentato Enrico Cattaneo direi che la sua modestia la conosciamo la conosciamo bene da tanto tempo così come conosciamo e apprezzavamo il suo lavoro anche quando non era così riconosciuto per cui certe sue considerazioni effettuate magari anche in alcuni momenti del suo percorso servivano credo a a tenere un po' nel loro posto le cose al suo modo di vedere anche se quello che ha fatto e che ha fatto sotto tre profili come mi verrebbe da dire ora ha avuto e ha una notevole importanza per esempio il tema realismo reale nuovo realismo e materialità è indubbio che nel lavoro di Enrico Cattaneo quando passa a questa riflessione sul fotografico ci sia un elemento che potremmo definire quasi concettuale cioè ecco provolto del modo in cui si manifestano poi certe variazioni però a differenza di chi come altri fotografi Ugo Mulas in primis hanno fatto nel operare sulla fotografia in termini concettuali Enrico Cattaneo l'ha sempre fatto in termini estremamente materiali la materia è centrale la materia è centrale non tanto come oggetto della fotografia ma come fotografia stessa questo credo che sia una delle cose che caratterizzano il modo di operare Enrico e qui ribadisco soltanto qualcosa che già Giorgio ha introdotto in relazione al tema del rapporto con nuvoralismo e altro ecco c'era quella ho pensato un po' a questa tripartizione per dire tre cose che sono forse la stessa abbiamo il Cattaneo fotografo cioè Cattaneo è fotografo è fotografo in tutto in tutto quello che fa in tutte le sue azioni e opere però è stato fotografo d'arte fotografo d'arte con vorrebbe da dire in una classificazione una duplice direzione un fotografo che ha abilmente letto colto interpretato le situazioni in cui l'arte si manifesta quindi è un grande documentatore diciamo così delle esposizioni e poi è diventato un fotografo d'arte delle opere d'arte perché il suo lavoro di fotografia sulla scultura in particolar modo è una delle migliori interpretazioni del linguaggio scultorio e di un certo tipo di lavoro scultorio direi contemporaneo progressivamente ci si è accorti anche se lui per tanto tempo lo ha fatto tenendolo quasi per sé che oltre che fotografo fotografo d'arte era fotografo artista come a un certo punto abbiamo cominciato a dire e quelle cose che erano gli esercizi anche quotidiani di riflessione sulla fotografia sono diventate le opere e a quel punto allora scatta l'attenzione per questi possibili punti di collegamento con le poetiche con le quali inevitabilmente si è trovato a misurarsi essendo un fotografo che dagli anni 60 dagli anni 50 e dagli anni 60 in modo sempre più costante ha accompagnato ciò che avveniva nel mondo dell'arte quotidianamente ed è inevitabile che il fotografo d'arte che diventa fotografo artista o che è con naturalmente con naturalmente cioè con naturato naturalmente fotografo artista dialoga con le situazioni e si forma anche con le situazioni nelle quali è inserito però il problema del nuovo realismo il tema del nuovo realismo che è indifferentemente collegato al suo inizio 60 e la sua vita 60 63 la sua risurrezione morte 70 che è il momento in cui poi Cattaneo veramente lo avvicina cioè nell'ultima fase manifestazione proprio è una situazione che ha posto se andiamo indietro proprio la questione del reale e del reale urbano del reale cittadino nelle sue svariate forme pensando proprio a quello che dice Restani è quello che anche in Art of Assemblage che è la mostra che in un certo senso scatturisce dalle poetiche dello stesso nuovo realismo si manifesta va a cogliere questa materia che è fatta da non solo rifiuti è come vorrebbe da pensare i rifiuti sono importanti per tutti loro perché sono il residuo delle cose cioè siamo in società dei consumi siamo nell'ambito dell'esplosione della produzione di oggetti che stanno nelle case che vengono promossi e pubblicizzati che diventano determinanti per la nostra vita questi oggetti che diventano cose hanno come ultima conseguenza quella di essere dei rifiuti o meglio dei residui e facendo una poetica dei rifiuti e dei residui anche Cattaneo come dovrebbe da dire i filosofi e gli scrittori esistenzialisti come altri fotografi che avevano avviato magari un confronto con quelle cose residuali che sono le pareti i muri scrostati uno sputo per terra cose di questo tipo oggetto di attenzione da qualche decennio da parte di fotografi come Vols o Nino Migliori o Aaron Siskind per citare tre di tre aree che però servono a capire un po' le direzioni ecco naturalmente trova una sua forma che è quella originale di far diventare oggetti e far diventare sculture quelle forme residuali che sotto l'occhio fotografico che li riprende in un certo modo cambiano e anche lì il processo più che concettuale è formale ed è materiale perché in fondo le lattine e queste cose non hanno la componente intellettuale di un Manzoni o di un Duchamp sono piuttosto magari quelle immediate percezioni che potrebbe chiunque avere senza dover fare una concettualizzazione teorica sul ruolo della della forma ma naturalmente le trova così le fa diventare quello direi che c'è in questo passaggio che passa prima da quegli oggetti poi alla materia fotografica che diventa oggetto a sua volta oggetto residuale perché poi chiaramente tutto il lavoro di fotografo artista di Enrico Cretaneo credo possiamo sottolineare nasce come residuo del lavoro di fotografo su una volta gli scarti su una volta foto non ben riuscite o foto che rimangono o quegli oggetti appunto che recupera ecco allora che mi sembra un po' che si è limitante limitativo dire mettere come confronto quello del come rapporto fondante della poetica di Enrico Cattaneo quella del nuovo realismo che è una fra le altre quanto importa per esempio il fatto che lui abbia diciamo come in un vaso comunicante interpretato letto reso oggetto della fotografia quelle cose e sia stato abile nel fare una lettura tridimensionale polidimensionale della scultura situata la scultura nella città scambiando di scala dal suo tavolo alla città queste cose vengono lette secondo una sua potremmo dire poetica spesso quando si parla di informale post informale c'era sempre questa cosa del muro la poetica del muro la famosa frase di Leonardo quando un pittore non sa cosa dipingere può prendere la sua ispirazione dalle nuvole o dalle muffe sul muro se di questa osservazione di Leonardo prendiamo l'inizio soltanto se un pittore non sa cosa dipingere può succedere forse ma un fotografo non sa cosa fotografare io credo che un fotografo fotografo abbia sempre qualcosa da fotografare abbia sempre una lettura fotografica delle cose è più facile che un pittore non sappia cosa dipingere il fotografo può fotografare qualsiasi cosa quando ha una mentalità una visione di un certo tipo ecco poi arriva anche il tema del muro scrostato o delle nuvole ma è un'esplorazione ulteriore che Enrico Cattaneo fa dove può esserci nuvoralismo può esserci la fotografia precedente può esserci il confronto con gli artisti stessi con i quali lavorava a stretto contatto insomma possono esserci emergere tanti elementi nel lavoro di Enrico Cattaneo che però è soprattutto fondato sulla sua specifica qualità e attenzione fotografica c'è un passaggio di un'intervista adesso stavo non è che abbia fatto grandi riprese anche se meriterebbe il suo lavoro di essere riletto attraverso tutto quanto è stato scritto per cominciare a fare una sistemazione nel corso del tempo in un'intervista di Angela Madesani per una mostra lo spazio temporaneo del 2000 mi sembra ad un certo punto dice Enrico Cattaneo chiunque racconti qualcosa quasi sempre finisce per fare un racconto autobiografico questa è la grande differenza fra uno come me e un grande fotoreporter di Life per i documentaristi la maggior componente del loro interesse è l'esterno l'oggetto esterno la realtà esterna alla loro quando io invece fotografo un paesaggio è perché l'ho sognato prima utilizzo la realtà esterna come uno strumento cerco l'immagine che ho già in mente e in questa chiara distinzione di atteggiamento che Enrico Cattaneo una ventina di anni fa da in un'epoca in cui non c'era più il timore come negli anni settanta di distinguere tra fotografo artista e fotografo penso appunto tutti quei fotografi o artisti che lavoravano con la fotografia già negli anni settanta che si trovavano a disagio di fronte ai fotografi però Enrico Cattaneo distingue bene e dice bene io non sono un documentarista forse non lo è neanche quando fa fotografia quando documenta fotograficamente gioco di parole documentare le situazioni espositive le opere d'arte il suo lavoro molto filtrato diciamo dal suo modo di vedere dal suo mondo è un lavoro lui dice autobiografico diciamo con una forte impronta personale qualsiasi siano le ingerenze le incidenze di quanto sta attorno direi che questo mi sembra possa essere una cosa ancora oggi da sottolineare dove sì questo conservare come modo di preservare tramandare rileggere le cose si fonda sempre su materie che sono consapevoli di essere molto labili perché poi tutti questi lavori per quanto materici sono tutti destinati quasi per la loro stessa ulteriore qualità a deteriorarsi la conservazione di questo è una conservazione sempre legata a dei tempi che non sappiamo quali potranno essere ma sono documenti di un tempo volevo aggiungere e riprendere il discorso di Francesco sul tema delle immagini che ormai vediamo il mondo attraverso le immagini però contemporaneamente anche questa logica sempre più presente di una perdita di fisicità della fotografia che è diventata digitale è diventato un file che siamo sommersi da queste immagini sui cellulari che poi spariscono le cancelliamo le spediamo eccetera tutto diventa immateriale quindi forse mi sembrava anche interessante il fatto che l'operazione di Enrico proprio per la sua inattualità diventa fondamentale diventa importante perché è proprio invece una riflessione sulla storia anche di un fotografico che era invece proprio di materialità di pellicola di carte di strumenti di qualcosa che c'era e che proprio perché c'era poteva essere presenza essere rimessa in scena poi l'altra cosa che volevo sottolineare sul tema appunto Enrico come diceva giustamente il fotografo ha sempre qualcosa da fotografare perché probabilmente la voglia di fotografare nasce proprio da un bisogno di relazione con il visibile con il reale eccetera quindi con questo continuo rapporto però contemporaneamente c'è anche un aspetto paradossale che poi Enrico Cattaneo come nel lavoro Paesaggi ha fatto delle fotografie che non sono fotografie cioè non ha scattato nulla cioè non ha fotografato nulla però perché è un lavoro semplicemente che lui ha fatto usando degli agenti chimici su carta fotografica ma la cosa interessante è che anche questa carta fotografica è una carta che lui aveva conservato una carta che ha tirato fuori dai cassetto e quindi è qualcosa che aveva a sua volta una storia una memoria non c'era più quella carta ed è intervenuto semplicemente con questo agente chimico e quindi ha creato a partire da un qualcosa che come dire di fatto non è nulla perché è un intervento di un agente chimico però diventa a sua volta un dispositivo per immaginare per vedere qualcosa che di fatto non c'è ma che riusciamo a immaginare e quindi anche un ragionamento nuovo poi portato avanti anche da altri autori come Silvio Wolf che è qui presente e che aveva esposto le sue opere sempre nella mostra Alterazioni in cui di nuovo presa un inizio della pellicola addirittura non stampata ingrandita e presentata in altro modo ma semplicemente senza interventi la vediamo come un orizzonte come un paesaggio e quindi una fotografia senza fotografia per certi versi ecco ma mi sembrava anche interessante però volevo chiederlo a tutti e due anche perché in effetti noi abbiamo anche un'arte senza l'operazione artistica un'arte che è prelievo che è sperimentazione sui materiali quindi mi sembrava interessante proprio il fatto che in fondo ci troviamo semplicemente di autori che lavorano per creare qualcosa di problematico che interviene sulla realtà che ci mette in discussione degli aspetti e quindi che l'operazione artistica non è più tanto quello né del dipingere né del fotografare quindi adesso chiedo a Giorgio e poi io sono profondamente convinto che diciamo la grande conquista sociale dell'arte del ventesimo secolo sia stata l'ozio dell'artista cioè insomma la rinuncia alla necessità che fino a poco prima era stata accogente che l'artista per essere tale dovesse operare ecco però questa è probabilmente la pigrizia l'indole pigra di Duchamp che ha segnato in questa direzione tutta l'arte successiva guadagnando definitivamente in un lunghissimo processo iniziato con il rinascimento la dignità di intellettuale all'artista che quindi poteva lavorare come tutti gli altri intellettuali senza il sudore della fronte e senza sporcarsi troppo le mani o la blusa e quindi la necessità forse fisica di operare direttamente su un materiale eccetera non c'è più e non c'è più come necessità quindi ci può essere come scelta e fortunatamente come scelta c'è ancora ed è una scelta libera ma questo non implica che quella che si fa non sia un'operazione semplicemente invece che essere un'operazione intellettuale invece che essere un'operazione materiale diventa un'operazione squisitamente intellettuale in questo senso è vero letteralmente che i chimigrammi ne abbiamo visti di bellissimi anche l'altro anno nella mostra che c'era stata di Paolo Monti al Castello Sforzesco i suoi chimigrammi degli anni 50-60 letteralmente non sono fotografia nel senso che non entra necessariamente talvolta ci entra talvolta no nel processo di realizzazione la luce quindi questo prefisso foto può non esserci infatti si parla più tecnicamente di chimigrammi è un agente chimico che agisce direttamente sulla carta sensibile però sicuramente sono la realizzazione di un'immagine molto pertinente alla fotografia anche se forse sorella gemella della fotografia e non proprio la stessa persona intanto perché utilizzano necessariamente perché lui non si costruisce delle superfici sensibili agli agenti chimici artigianalmente con altre materie ma usa dei materiali industriali insomma professionali ma di produzione industriale progettati e pensati per la fotografia e poi ma questo vale per ogni arte visiva recentemente mi è capitato di discutere o di dirlo che alle origini stesse storiche proprio della fotografia la fotografia è parente stretta della scultura forse più che del disegno della pittura e delle altre artigrafiche perché sia fotografia sia scultura lavorano con un oggetto fisico reale sul quale si proietta la luce incidente alla fine il discorso di Medardo Rosso in fotografia e in scultura è proprio questo che fotografia e scultura sono la stessa cosa cioè io plasmo una forma di cera perché la luce che gli batte sopra in un certo modo crei un'immagine visiva da un determinato punto di vista quindi sto creando con la cera e con la tridimensionalità un'immagine che è la cosa più simile che possa esistere alla fotografia e anche questi oggetti ancora oggi noi li vediamo attraverso la luce incidente che poi però questo è vero anche per la pittura di Giotto a questo punto non solo per i chimigrammi io credo che la nuova frontiera dell'immagine ce lo stanno insegnando le neuroscienze ecco negli anni più recenti sia l'immagine che prescinde dalla percezione addirittura fotosensibile sono queste ricerche sui di neurostimolazione particolari fatte proprio per i non vedenti anche per capire se si riesce a restituire una suggestione visiva ai non vedenti che stimolano direttamente delle aree recettive neuronali cerebrali a partire dalla digitalizzazione di un'immagine per cui anche in assenza di capacità fisiologica di percezione visiva attraverso la luce si ottiene una percezione direttamente neuronale dell'immagine che viene trasmessa potrebbe essere addirittura la frontiera per guarire alcune forme di cecità però comunque l'immagine da cui si parte è un'immagine visiva che è stata poi digitalizzata il senso di quelle operazioni è che noi ci vediamo dentro delle immagini visive di cui abbiamo memoria mi sembrava molto suggestiva quella scheggia di intervista che leggeva Francesco forse quelli proprio sono i paesaggi che lui aveva sognato la notte prima e che poi realizza agendo col pennello e con gli agenti chimici sopra le carte sensibili questo è vero io credo per tutti gli artisti ecco non so se il pittore io non so se un vero pittore un vero disegnatore può davvero rimanere senza niente da disegnare o niente già il fatto di domandarsi adesso cosa dipingo è l'inizio forse di tutto è vero che nel 2000 ormai ecco Enrico ha avuto anche questa straordinaria avventura di cominciare in un mondo fotografico che era ancora molto simile a quella della fotografia di molti decenni prima se non di un secolo prima e di vedere poi questa rivoluzione digitale questa disponibilità dell'immagine che è diventata a sua volta rifiuto io sto lo sto facendo un mese che lo sto facendo non riesco a finire sto cambiando il mio computer portatile in questo periodo che è pieno zeppo di cose assurde che io non guardo più da anni che ho scaricato per lavoro per divertimento eccetera e ho detto adesso che lo cambio butto via quello che non mi serve ecco non l'avessi mai mai detto i nostri computer sono delle enormi discariche di immagini fotografiche di testi di inviti di mostre di dieci anni fa che non leggeremo mai più ma che chissà perché avevo conservato perché pensavo che mi servissero e io credo che questa grande disponibilità di cose tutto sommato anche di comunicazione di informazione rimanga tutto sommato una conquista anche se certe volte ci fa un gran disordine in testa e avremmo voglia di più pulizia e di più di un tavolo di una scrivania del computer più libera però quello che poi fa da timone è il pensiero che c'è dietro il pensiero che c'è dentro ecco io credo che in queste immagini di Enrico trovate sicuramente l'oggetto trovato nella discaria però bisogna dire trovate e poi ripensate perché sennò come dire ciascuno di noi vede ogni giorno migliaia di forme che dicono quella sembra una scultura di non so di Calder piuttosto di non so chi però Enrico ha scelto quella determinata latina l'ha portata sul set dove probabilmente stava facendo delle fotografie di still life l'ha illuminata con i faretti professionali e ha realizzato quest'operazione poi l'ha stampata l'ha confezionata delle persone l'hanno archiviata una persona l'ha scelta noi oggi ne stiamo parlando cioè è questo processo di pensiero che è partito da una scelta di Enrico è diventata una relazione culturale interessante fra tutti noi che poi trasforma come dire la banalità della discarica in una riflessione sulla discarica che è quello che ci rende poi forse degli esseri umani e non solo dei consumatori grazie adesso volevo tanto sottolineo una cosa che magari può essere interessante sul tema appunto evidenziato dall'intervista di Enrico Cattaneo del paesaggio perché in effetti è un intervento chimico sulla carta ma è anche un intervento controllato non è una pura sperimentazione in cui vediamo cosa viene fuori ma è un'operazione come dire giocata tra intenzionalità immagini magari interiorizzate da rappresentare è caso quindi ci sono due aspetti perché non è la pura sperimentazione come quella fatta da Paolo Monti o quella fatta da artisti polacchi nel periodo del modernismo che lavoravano con gli acidi vedere cosa veniva fuori delle cose di un'eleganza meravigliose e certo però facendone tante invece in questo caso c'è proprio un'operazione studiata in cui noi le vediamo orizzontali ma anche la cosa interessante è che sono state ruotate nel senso che sono immagini che sono state fatte in verticali facendo colare quindi il regente chimico che scivola e quindi segue proprio l'inclinazione nella fotografia e poi questa opera è stata ruotata che qui poi peraltro potrebbe essere anche interessante con l'operazione di Spurri che era quello in realtà di prendere qualcosa orizzontale sui tavoli e poi ruotarlo e presentarlo in verticale l'idea appunto dell'opera d'arte che è un pezzo di marciapiede ripreso catturato e messo in verticale quindi con una rotazione che ne cambia la nostra percezione io adesso volevo vedere se Francesco voleva aggiungere qualcosa dentro questo tema diciamo un po' sulla falsariglia di quello che stiamo dicendo che si sta dicendo riprendo un altro punto ancora ma ruoto attorno quanto anticipato cioè se penso a un lavoro come quello di Enrico come ha ben descritto Giorgio nel scegliere mettere sul set e fare tutte quella serie di azioni che poi si completano anche con la parte in cui lui fotografo realizza concretamente la fotografia con i bagni la stesura il lavoro in camera oscura no in fondo se c'è un aspetto dicevo prima di concettualizzazione è strettamente pertinente l'artigianalità forse Enrico sarebbe d'accordo se fosse qui a parlarne adesso nel considerare che il suo lavoro tutto insieme può essere una valorizzazione dell'aspetto artigianale della fotografia in un'epoca in cui chiaramente non usiamo più forse questo termine per parlare del nuovo mondo fotografico del nuovo modello delle nuove tipologie di fotografia e in questo senso materia e artigianato diventa una difesa in un certo senso un'affermazione meglio più che una difesa di un modello operativo che è stato quello del fotografo nel ventesimo secolo con la consapevolezza di non essere più solo appunto un documentarista un documentatore in questo senso credo che tutte queste cose fanno parte facciano parte di questa fortissima presa d'atto del valore di un mestiere che è quello che ha praticato Enrico Cattaneo un mestiere in cui li ha creduto e crede molto anche per tutti quegli aspetti che sono al di fuori degli elementi strettamente seri perché la fotografia a un certo punto gli si dà fede per quelle che sono le i ritratti fotografici di matrimonio le fotografie che documentano i fatti di cronaca è la fotografia allora al di fronte a questo che è un aspetto un po' staccato dentro sporcandosi le mani lui tira fuori anche il bello di tutta quella attività materiale fatta di tante cose che sono poi da prendere non solo per quello che sono ma per quello che diventano ecco questo passaggio dalla realtà alla costruzione alla creazione che ha benissimo sintetizzato Giorgio dicendo alla fine diventano dei materiali su cui possiamo parlare o pensare o trovare degli ulteriori spunti prima ho detto quasi mi sembrava di averlo detto sbagliandomi in realtà no ho finito dicendo che in fondo anche se lui non è un documentarista documenta un tempo credo invece sia vero cioè non è un fotografo che documenta nell'immagine ma in tutto questo fare il suo lavoro è testimonianza di documentazione del tempo che è il tempo del lavoro il tempo ed è un tempo forse concluso per quanto riguarda quel tipo di approccio alla fotografia materia non concluso e vivo per quanto riguarda un modo di intendere le fotografie la fotografia e le fotografie in quello che possono essere come produzione di immagini alla stregua e alla pari delle altre forme di produzione di immagini pur con nuove e ulteriori forme cioè un Enrico Cattaneo del ventunesimo secolo che lavora sui materiali diciamo informatici può benissimo esserci probabilmente ce ne sono però proprio con questa sua caratteristica di pensiero di affermazione di quel tipo di artigianalità in tutte le sue forme grazie molto intanto mi interessa molto questo aspetto anche proprio come evidenzato Francesco dell'artigianalità del fare e quindi riportare anche la fotografia proprio a qualcosa di materiale di artigianale e peraltro spesso si contrappone l'artigianato all'arte ma in realtà mi piace ricordare che poi Duchamp quando era stato intervistato gli avevano chiesto ma lei come si definisce un artista un creatore cioè no no un artigiano quindi quello che viene considerato il sommo artista che ha rivoluzionato l'arte contemporanea e moderna era uno che si definiva un artigiano e questo mi sembra molto interessante perché significa che anche per lui c'era un aspetto come dire da una parte il prelievo ma anche la sperimentazione il grande vetro è un'opera che ha proseguito negli anni con grandissime ricerche proprio sui materiali sulle tecniche sulle possibilità eccetera quindi mi sembrava un elemento molto importante poi io volevo anche avvicinare un po' il lavoro di Enrico Cattaneo che lui stesso racconta sempre e di avere avuto come dire una grande passione per Man Ray e quindi una delle sue cose che racconta sempre Enrico dice io parto dal titolo per costruire l'opera e la cosa che mi interessava fondamentale che diceva proprio questo aspetto che in Pondo è fondante anche del nuvorealismo e di altre tendenze dell'arte è come dire l'ironia il riso e quindi questo aspetto che diventa spiazzante adesso ricordo per esempio un lavoro di Man Ray che ho ritrovato in una mostra che è stata secondo me una mostra molto interessante che era un fotografì che era una mostra che c'è stata al Pompidou al Boburg in cui c'era proprio un'opera di Man Ray secondo me divertentissima mai vista del 1930 il titolo dell'opera in questo villaggio Nieps inventa la fotografia ma la cosa straordinaria è che era un cartellone è la fotografia di un cartellone in cui c'è questa enorme frase in questo villaggio Nieps inventa la fotografia che immediatamente è una logica spiazzante che ti fa ridere per cui la fotografia viene riportata a qui in questo villaggio e questa logica spiazzante mi sembra dominare nel lavoro di Enrico per cui anche nel totem in quel lavoro è vero la latina ci si ripresenta ci sorride ma è anche qualcosa che ci spiazza che ci fa anche ridere e quindi poi tutto il suo lavoro anche ha dei titoli secondo me straordinari per esempio un lavoro che lì è esposto che si chiama In Regres uno può prendere anche seriamente ma in realtà è una presa in giro del mondo della fotografia che è sempre in progress per cui ci sono tanti lavori che c'è scritto proprio in progress 2007 in progress in questo caso invece In Regres perché progressivamente si disintegra e però c'è uno spiazzamento oppure anche il titolo fotografia del tubo che era anche questa in cui si vede ecco la famosa poi Natura Morta dei miei stivali che è un'opera che mi ha sempre fatto molto ridere anche perché in realtà c'è un'opera a cui ero molto legata e quindi sono stata anche dispiaciuta che non riuscire a desporla in questa mostra perché in realtà poi c'era tutto il testo seriosissimo anzi molto serio non solo seriosissimo ma molto approfondito di Heidegger sui famosi stivali dipinti da Van Gogh e quindi tutta un'indagine di questi stivali dipinti da Van Gogh che erano i suoi scarponi come segno della terra come apertura eccetera e quindi tutto questo aspetto di lotta nel raccoglimento tra esporre un mondo e porre qui la terra come dice Heidegger viene in qualche misura spiazzato da Enrico Cattaneo con questa natura morta dei suoi stivali che erano davvero i suoi stivali e quindi cambiare questa logica e quindi poi un altro titolo era le scatole rotte poi un lavoro che non ha mai fatto che era le borse sotto gli occhi che erano effettivamente una raccolta di borse più che decennali conservate nello studio che sono ancora lì e quindi attendiamo questa mitica opera quindi mi chiedevo anche un po' il riso l'ironia che importanza ha nella storia dell'arte tra gli anni 70 e oggi quindi passo prima sì beh il riso è anche nell'antichità se vogliamo è uno degli strumenti principi del del distacco intellettuale il riso segna quello che l'arte concettuale chiama il gap con la realtà lo scarto semplicemente con la realtà l'ironia cioè il riso pensato ecco il riso che parte dal cervello prima che dallo stomaco è un modo di mettere in cifra è un altro piedistallo come mettere sotto la luce giusta un oggetto fare un titolo spiazzante insomma Magritte o Duchamp stesso possono insegnarlo su tutti il lavoro sui titoli o sulle didascalie di Magritte è un modo per farci pensare poi è un modo molto serio per farci pensare alla natura spiazzante della realtà in cui viviamo che noi tendiamo a semplificare a dare per scontata ma che invece ha molte più sfaccettature bizzarre ma anche straordinarie e profonde di quello di quello che si possa dire non è un caso forse che poi quando si arriva a un'opera di quel tipo anche Enrico approda senza titolo ecco che è un altro dei grandi temi se vogliamo dei punti interrogativi del novecento dell'arte contemporanea ogni tanto io mi chiedo come mai tutta la tradizione artistica del passato non aveva mai avuto il bisogno di scrivere questa cosa di fianco a un quadro mentre noi nel novecento in particolare nella seconda metà del novecento abbiamo iniziato a sentire questo bisogno cioè a definire certe opere senza titolo cioè prima se un'opera non aveva un titolo le si attribuiva un soprannome ecco come a una persona magari descrivendo quello che si vedeva o quello che si credeva di vedere e forse ecco questa dell'ironia tu dici il riso ma dell'ironia è una cifra secondo me è una cifra molto tipica anche di Enrico che sicuramente lui avrà mutuato dalla frequentazione della galleria Schwarz innanzitutto di Restani e di Man Ray in sintesi una cosa che stavo pensando su questo è che in fondo è una ricerca del punto d'equilibrio cioè l'oggetto raccolto per terra che diventa soggetto subisce un innalzamento cioè che può essere anche quel tanto di aura che lo colloca in una posizione di attenzione che non aveva finché era un oggetto abbandonato una cosa un residuale abbandonata e di fronte a questo che siamo in un processo di esaltazione per senso forse della realtà ma un senso della realtà anche che è sostanzialmente anche l'ironia c'è l'abbassamento l'abbassamento ironico che toglie l'esaltazione artistica ad una cosa che è stata già rialzata ma viene collocata in un equilibrio che credo un po' sia quello del mondo e del modo di pensare anche di Enrico Cattaneo cioè guardiamolo ma non avrebbe bisogno Enrico Cattaneo di concettualizzare con le note di Duchamp o con i testi bellissimi importantissimi delle verifiche di Mulas senza i quali testi forse quelle sue fotografie non avrebbero la stessa forza a lui basta invece che ci sia la concretezza credo e questo gioco ironico fa parte di questa concretezza tanto grazie tantissimi qui ci sono tante persone interessanti che fanno parte del mondo dell'arte quindi mi farebbe molto piacere se poi e peraltro c'è anche Giuliano e Alessio Locatelli che fanno parte dell'archivio Cattaneo e quindi tanto mi farebbe piacere se qualcuno di voi avesse voglia di fare domande interventi aggiungere considerazioni perché credo che le persone che partecipano a una conferenza abbiano anche il diritto magari e il piacere di raccontare che cosa pensano e aggiungere considerazioni e non limitarsi solo a fare domande ecco per cui se ci sono domande ci fa piacere se ci sono delle aggiunte magari Andrea no no raccolgo mi faceva piacere sentire Giuliano se hai qualcosa da aggiungere sì no allora volevo aggiungere beh intanto che sono molto no 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 va bene da qui va bene qui va bene qui che ci sono le telecamere lasciamo stare intanto non so se Alessia c'è ancora perché so che doveva andare via può darsi che sia già dovuta andare per cui dico due parole io sull'archivio perché l'archivio solitamente viene inteso soprattutto la parte di suo lavoro di documentazione nel mondo dell'arte quando si intende archivio cattaneo mentre invece il tipo di di esigenza che si aveva quando si è iniziato questo progetto era proprio quello di mettere in relazione queste due partizioni chiamiamole così per semplificare proprio per far capire come non siano due compartimenti stagna ma siano due parti fortemente in relazione e permette da un lato un lavoro esegetico tutta la sua parte di documentazione per capire il tipo di sintesi che fa lui a livello creativo in più permette anche di come dire di valorizzare quello che è il suo lavoro che secondo me non è ancora riuscito ad emergere proprio per quel suo essere sempre molto modesto nel porsi e quindi si riusciva a fare spesso delle mostre che erano legate a un singolo lavoro all'interno di una galleria oppure mostre che riguardassero soprattutto il suo lavoro di documentazione qui invece in questo caso si è fatto sì un lavoro legato a quella che è la sua parte creativa mettendo insieme tanti lavori in un'ampiezza cronologica molto dilatata che permettessero di far vedere come nella diversità di linguaggi che lui come dire affronta mette in essere ci sia di fondo una coerenza poi fortissima e una coerenza fortissima con anche tutto il suo vissuto per cui questo che è interessante e poi una cosa che aggiungo riallacciandomi una cosa che ha detto lui è autore anche nel momento in cui fa quest'opera di documentazione perché in realtà la parte di documentazione quella su commissione e quella relativa alla riproduzione di opere d'arte che lui fa e che fa in maniera molto professionale sviluppando poi un suo linguaggio proprio anche sulla scultura che come ha ricordato Francesco Tedeschi è molto particolare ma poi questa attività che lui fa invece di documentazione è molto borderline cioè non è sempre frutto di committenza cioè lui continua a frequentare perché anche il mondo che vive diciamo e anche per continuare a procacciarsi i clienti per dirla in termini un po' brutali per cui è interessante che diventa anche un suo modo in qualche modo di portare avanti una ricerca visiva su questo mondo e spesso viene fuori in tanto materiale che è inedito perché non gli viene richiesto magari per libri o per altre cose in cui c'è bisogno di un contenuto iconografico ma sono foto che nel frattempo lui porta avanti e ogni tanto tira fuori all'archivio ricerca visiva si era fatto una mostra sul pubblico della biennale erano tutte foto per lo più inedite lui andando a documentare per le riviste le biennali le opere d'arte poi si è messo a fare una ricerca sul pubblico e l'ha portata avanti per anni e si è tirato fuori tanto materiale per cui diciamo l'archivio ha la finalità insomma di cercare di tirare fuori tutta questa complessità e cercando di offrire uno strumento poi a studiosi storici per poter in qualche modo trarre delle riflessioni sì sulla storia dell'arte contemporanea a partire da quelli che sono le sue parti di documentazione ma anche proprio di valorizzare quello che è il suo lavoro come artista che sicuramente rimane secondo me un'esperienza abbastanza unica per poi come si configura allora volevo aggiungere una cosa così curiosa parte su questo tema dell'alzare abbassare perché effettivamente poi nel lavoro di Enrico non c'è un'epica del brutto del rifiuto eccetera ma è sempre sul filo dell'ironia o di una valorizzazione ma comunque non c'è mai la bellezza tanto del brutto quanto un'operazione in equilibrio instabile ecco l'altro aspetto che mi sembrava divertente sempre su questo tema alto e basso era il fatto che lui ha fotografato molti aveva fatto un lavoro adesso magari Giuliano ci dice qual era il titolo perché io non me lo ricordo più tutto su un lavoro di mostre d'arte riprese però nei momenti in cui come dire i visitatori si avventano sui beveraggi e i cibi no? ecco quindi mentre azzannano panini e si scolano bicchieri di vino e quindi e lo trovavo molto divertente perché anche lì no? è un'operazione in fondo perché lui ha fatto così no? cioè non era certamente una committenza mentre uno mangia il panino no? ecco però c'è stata una mossa magari Giuliano Sirico happy hour però per dare l'idea di come no? anche nel lavoro nel mondo d'arte riuscisse ad avere una vena spiazzante giocosa peccato che San Federo non ci fa mangiare adesso non c'è Cattano infatti ecco c'è qualcuno che vuole fare domande c'è qualcuno che desidera ecco magari raccogliamo due o tre ecco io non sono un competente in fotografia però mi curiosisce appunto quelle immagini che sono là che sono state prima descritte potrebbero rappresentare un po' singolarmente scusi un passaggio un confine tra quello tra l'analogico e il digitale quasi un gesto quasi ecco una cosa gestuale l'Apollo che insomma comunque una volontà di diciamo di definire due momenti diversi per la vita di un fotografo come lui che ha vissuto il prima e il dopo mentre Gigliola Giorgio e Francesco parlavano io ho continuato a guardare i lavori alle loro spalle e continuo a guardarli adesso li trovo struggenti e poetici e mi interrogo su quello che noi lasciamo le tracce cioè quello che rimane di noi è questo io ho avuto una sensazione bella e strana perché Enrico Cattano che conosco da una vita non è qua ma mi sembra che stiamo parlando di un'assenza e di una presenza al tempo stesso queste cose mi sembra veramente la quintessenza delle tracce che un individuo lascia di sé su questa terra e devo pensare che sono spazzatura cose che un fotografo normalmente butterebbe via che lui ha riconosciuto ha caricato di valore simbolico e ha conservato e adesso sono esposte e la cosa che non finisce stupirmi la misura in cui una cosa può rappresentare sinteticamente la vita e l'esistenza di una persona in sua assenza cioè io non sento l'esigenza di averlo fisicamente qui di sentire le sue parole che mi trasmettono il senso del lavoro aver avuto la fortuna di poterla assorbire così a lungo mentre voi parlavate mi ha veramente trasmesso moltissimo e devo dire che la parola che mi viene in mente è struggente e poetico al tempo stesso grazie Silvio altri interventi Gabriella confesso di essere coetanea di Enrico di conseguenza ho conosciuto Enrico negli anni sessanta e in un certo senso il percorso professionale e umano mio si accompagna a quello di Enrico c'è proprio un discorso evolutivo del lavoro che ci accomuna Enrico arrivava da me con una incredibile macchina di un verde mela squillante forse nessuno di voi sa questa cosa era veramente forse era una Topolino forse una 500 ma una macchinetta proprio minima ma verde mela brillantissima arrivava e faceva le fotografie di quello che io facevo allora esponevo figuratevi da Bergamini qualcuno forse sa chi era Bergamini Bergamini ha durato come galleria fino agli anni ottanta e direi che questo periodo lunghissimo di pittura che evolve che evolve anche da un punto di vista dell'esperienza umana direi che mi accompagno come percorso a Enrico infatti abbiamo fotografie in cui ci rispecchiamo nelle mostre eccetera eccetera il discorso che ha fatto Francesco mi sembra molto importante perché si riferisce proprio a questa storia e cioè è la storia dell'arte che si sposta che diventa non più rappresentazione anche se io non ho mai fatto rappresentazione ma comunque la materia diventa altro voi ne avete parlato moltissimo a proposito di questi frammenti però io devo insistere sul valore di questi frammenti sono frammenti ancora fisici noi non staremmo qui a parlarne se non ci fosse questa presenza che non è corposa da un punto di vista dell'immagine ma la è da un punto di vista della materia tutto questo è successo a Enrico e posso dire di averlo accompagnato allora partiamo dalla famosa macchinetta dall'incredibile colore verde a questo momento in cui vi parlo di Enrico in questi termini grazie altri interventi ricordi o suggestioni io non posso dimenticare quando siamo andati all'appartamento è stata una vera dove è Giuliano e nell'appartamento di Enrico un vero e proprio museo con tantissime opere accavallate le une sulle altre con i ricordi dei suoi amici una vera esperienza e credo anche una grande responsabilità per l'archivio altri prego vengo col microfono no no lasci purtroppo sono arrivata tardi per cui ho sentito solo un pezzo dell'intervento di Francesco Tedeschi non so se avete parlato di una di un orizzonte che entrando nell'archivio studio abitazione di Enrico ogni persona è una vera e propria esperienza ed è il fumo non so se ne avete parlato perché è un elemento fondamentale per entrare nella sua nella sua poetica tra virgolette perché è il rorato di fumo qualunque qualunque cosa sia nella sua nella sua casa per cui poi ovviamente è un'esperienza eccezionale entrare e poter vedere tutti i suoi i suoi i suoi lavori e tutto il suo archivio io tra l'altro l'ho visto quando non era ancora iniziato il lavoro di Giuliano e la prima volta ecco e di Alessia dell'archivio fotografico per cui insomma per me è stata un'esperienza bellissima ribadisco irrorata da questo alune di fumo che secondo me è fondamentale per ricordare proprio la sua per pensare a Enrico poi io ho avuto il piacere l'onore di presentare il lavoro in galleria da me di Enrico in coppia con Adapivetta proprio perché a questo proposito lui aveva documentato tutta una serie di artisti e anche in tempi più recenti ecco a parte questi degli anni 70 che conosciamo tutti gli artisti più recenti in questo caso Adapivetta e quindi ho avuto molto piacere a presentare anche dei suoi lavori inediti di germinazioni per cui insomma lavori che sono quasi al di là della fotografia vanno ben oltre ben oltre diventano dei lavori di arte contemporanea diventano delle pitture diventano chissà che cosa che prendono poi corpo loro decidono anche Enrico quando dice vediamo che cosa succede queste germinazioni sono lavori che che vanno un pochino oltre poi ho visto questo bella bell'idea che avete avuto di recuperare cioè il momento contemporaneo è fondamentale questa cosa del recupero lui aveva già avuto allora l'occhio lungo di quello che non bisogna sprecare bisogna tenere recuperare quindi insomma complimenti mi scuso solo per essere arrivata dopo spero di poter recuperare grazie grazie se non ci sono altri interventi prego tanto grazie moltissime per i contributi e anche per la contemplazione di quest'opera che in effetti come tutte le opere comunica anche emozioni sentimenti ha una forza e quindi no penetra dentro di noi e ci tocca ecco però volevo visto che era stata posta una domanda mi sembrava anche magari importante farla girare perché per esempio sul tema della gestualità credo proprio di sì che ci sia un rimando però come dicevamo non è la gestualità spontanea alla Pollock no non è la gestualità della sperimentazione ma è una gestualità controllata per cui il gesto c'è ma è un gesto misurato è un gesto consapevole non basato sull'inconscio sulla corporeità eccetera sull'aspetto di relazione con il digitale onestamente io non lo vedo nel senso che mi sembra proprio che l'opera di Enrico abbia proprio un suo valore una sua forza proprio per essersi posta dentro la logica del non so dell'analogico e quindi di questa materia della presenza delle cose della capacità della fotografia di assorbire ma di assorbire proprio perché è carta perché pellicola eccetera bene io ringrazio farei un bellissimo applauso a Gigliola Foschi Giorgio Zanchetti Francesco Tedeschi grazie Giuliano ad Alessia e a tutti voi e buona visione della mostra e magari chissà ritrovarci tutti insieme alla casa di Enrico per vedere le tantissime altre cose grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti